Arriva a Verona 4 Hotel, la trasmissione di Sky in cui in ogni puntata si sfidano 4 hotel della stessa categoria e di un'area geografica selezionata. Bruno Barbieri, noto chef, e gli altri 4 albergatori soggiornano per un giorno e una notte nelle strutture in gara, valutando con un voto da 1 a 10 la location, i servizi, le camere e il prezzo. L'hotel Triestre, di corso a Porta Nuova, si aggiudica la vittoria, sbaragliando la concorrenza al suon di un design ricercato, che premia anche gli artisti del territorio, mettendone in mostra le opere. Colpiscono le atmosfere rilassate e gli spazi comuni in cui il cliente dimentica di essere solo di passaggio. È così che la pensa Andrea, il proprietario. Per me in un albergo la cosa più importante è l'atmosfera, quindi il primo impatto quando uno entra in una hall, negli spazi comuni, ha bisogno di respirare un'area particolare e poi il tutto è sempre fatto dalle persone, quindi lo staff che lavora in un albergo può essere sicuramente la carta vincente. E che è stato, ci dice proprio lui, molto contento di incontrare Barbieri. L'esperienza con Barbieri è stata fantastica perché lui è una persona molto molto simpatica e soprattutto un gran professionista, per cui si ha proprio la sensazione di lavorare con una persona estremamente preparata, dal quale si può imparare moltissimo. Grazie.